Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di 23 dicembre 2019, siete sul canale 17 di fanno tv, questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali che comincia come di consueto con il santo del giorno che adesso andiamo a vedere grazie anche alla grafica, oggi è San Giovanni d'Archetti, il sole sorgerà alle 7.34 e tramonterà alle 16.32, nelle prossime ore avremo ancora mal tempo, centro-sud, venti forti e mareggiate, settimana di Natale tra anticiclone e insidie fredde, questa è la copertina di trebimeteo.com ma una sbirciatina ancora all'Italia della giornata di Natale, la facciamo perché la curiosità è tanta e comunque viene confermata la proiezione di qualche giorno fa, questa è la giornata di Natale a mezzogiorno così come alle 18 e alle 24, solo sereno e ovviamente il gelo che compare laddove le temperature giustamente sono più rigide, questa invece è la proiezione di oggi della protezione civile delle Marche per la giornata odierna, ci sarà cielo sereno poco nuvoloso con transito di strutture comuniformi lungo la costa ma soprattutto al mattino, prevalenza di sereno invece nel corso del pomeriggio, le temperature sono in diminuzione ma attenzione al vento perché sarà comunque teso nel corso del pomeriggio, continuerà a soffiare vento anche sulla costa, vento forte invece in montagna. Domani martedì, vigilia di Natale, avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature ancora in diminuzione nei valori minimi e lieve aumento invece nei valori massimi, un po' di vento ma poco il mare sarà mosso, poco mosso invece nel pomeriggio ma indicazione di tempo stabile fino a giovedì con possibile transito di una perturbazione per venerdì e sabato. Diamo lo sguardo alle temperature previste per oggi alle ore 14, sono comunque ancora decisamente buone, superiori alla media del periodo, siamo intorno ai 13-14 gradi sulla costa, Fano, Pesaro, insomma fermo addirittura a 15-16 gradi oggi pomeriggio. C'è la cronaca con la morte di un calciatore di soli 33 anni, lo vedremo tra un istante, c'è ancora la polemica che riguarda l'ingaggio di un cantante, Povia, additato come omofobo e razzista dal Partito Democratico di Fano. Povia che si è dovuto giustificare con un video, un video di 7 minuti nel quale lui dice le cose che sono state dette, alcune le ho dette 15 anni fa, delle quali mi sono scusato e poi invece altre cose mi sono state messe in bocca attraverso dei profili fake, ovvero fasulli, falsi. Di questo si parla sui giornali questa mattina, ma andiamo con ordine, cominciamo dal resto del Carlino di Pesaro, questa è l'edizione locale del resto del Carlino appunto, muore dopo la cena con la squadra Federico Cerreti, 33enne del Gallo Football, trovato in auto sul ciglio della strada, per lui è stata disposta l'autopsia, di viabilità e di maltempo, bocca tra baria e senza pace, tornano le frane e poi a centro pagina invece Williams, il nuovo acquisto della VL che non fa il miracolo, a Pistoia per la squadra di basket pesarese, è arrivato il tredicesimo KO, 13 partite su 13 perse e adesso la VL finisce all'inferno, alla formazione di Giancarlo Sacco, regge per 30 minuti lo scontro decisivo con i Toscani ma cede nel finale di gara, finisce 91-79, si torna in campo il giorno di Santo Stefano contro Cantù e poi il mondo dello sport che piange Giorgio Gaudenzi, la politica, 5 stelle a Pesaro, la base si rivolta, ci avete tradito e poi la polemica fanese, Veto su Povia, il carnevale, ma lui dice le accuse sono ingiuste e poi in cucina una supermarket della droga e i carabiniere arrestano un 41enne, confezionava la cocaina tra i fornelli. L'edizione di Ancona, pedinate aggredita, stalker arrestato, la giovane commessa si è nascosta nel negozio ma l'ex ha continuato a tormentarla, è stato necessario un blitz della polizia. Centro pagina, Natale last minute, l'ultimo minuto, tecnologici, si parla ovviamente di regali, regali tecnologici o vintage, la guida agli ultimi regali. Questa invece è la cronaca e la pagina di Macerata, diga in tilt, onda nomala sul fiume, il fiume in questione è il fiume Musone in piena dopo l'apertura di una paratia ed è scattata dunque l'allerta ma il sindaco di Cingoli dice subito un'inchiesta per capire che cosa è successo. A centro pagina la lube dei record mentre il basket a Pesero registra tutti KO, tutte partite perse, c'è una squadra marchigiana ma che gioca a pallavolo che invece le partite le ha vinte tutte ed è la lube, la lube oggi definita giustamente dei record. Ha messo KO anche la squadra del Trento guidata dal Fanese, Civitanova imbattuta dunque nel girone di andata. Adesso andiamo a vedere il Corriere Adriatico ma loro in auto a costa e muore, dramma di un giovane calciatore, tornava dalla festa con la squadra, giocava con la squadra del Gallo, aveva 33 anni. A centro pagina lo Sport, VL senza scampo, perde 91 a 79 anche a Pistoia e resta ancora quota zero. Non bastano i 17 punti di Williams, mentre Fano e Vis pensano al mercato, sapete non hanno giocato per la questione dello sciopero, pronte dunque le due squadre che militiano in Serie C a tuffarsi sul mercato per rinforzarsi. Nel mirino dei Biancorossi ci sarebbe Saraniti e Zamparo, oltre a De Feo cerca nuovi gol anche l'Alma che finora ha utilizzato 26 giocatori. Sotto invece Santa Veneranda non molla, altra domenica di protesta, nonostante la pioggia sfila il corteo per la bretella, oggi la vicenda arriva in commissione. Parla il sindaco Ricci. Ecco la fotografia di Federico Cerreti, sorridente in questa immagine, mentre sull'altra fotografia con la divisa da calciatore Bebo, così come veniva chiamato dai compagni, è morto mentre rientrava a casa dopo una cena con i compagni di squadra. È morto fermandosi in un... subito dopo essere uscito dal ristorante si è accostato la macchina. Federico tra l'altro aveva raccontato ai suoi amici che non stava bene, non si sentiva bene, così intorno a luna di ieri aveva salutato la compagnia salendo in macchina diretto a casa, ma non è riuscito a fare molta strada, la sua auto è stata trovata accostata sul ciglio della strada che costeggia le mura di Sant'Angelo in Lizzola. A vederlo, a notarlo, a notare che c'era qualcosa di strano, una guardia giurata che si è subito fermata e ha avvisato il 118, inutili i tentativi di rianimarlo. C'è un ritratto che fa il giornale di questo ragazzo amante dello sport, amava il calcio, ma si era già anche laureato all'Università Carlo Bodi Urbino nel 2013, aveva frequentato la Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche, avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 28 gennaio, viveva a Pesaro insieme al nonno, molto legato al fratello Gianmarco di 22 anni, che con lui condivideva la passione per il calcio. Di questa tragedia parla anche il resto del Carlino in questa pagina, dove tra l'altro ci sono anche altri due decessi, due scomparsi. La prima, il medico Milo Masi, domani ci saranno i funerali a Montecchio, è una persona gentile, veramente a modo stimata da tutti. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Occhielli, ha appena appreso dalla scomparsa l'età di 93 anni di Milo Masi, medico di condotta, con oltre 50 anni di servizio sulle spalle ed un titolo onorifico conquistato sul campo per il suo impegno nella valorizzazione del campo giovanile. Avevamo preso a chiamarlo il Presidentissimo, dice Paolo Zampolini, che con Masi era nel Montecchio calcio, dicevamo lo ricorda anche Palmiro Occhielli. Il funerale di Masi che lascia i figli a Annalise e Fabrizio si terrà domani alle 14.30 nella chiesa di Montecchio. Ma c'è un'altra persona che ha lasciato questo mondo ed è Giorgio Gaudenzi. Giorgio Gaudenzi per oltre 20 anni fu segretario provinciale del CONI, fondò la società di ciclismo velo e la Cannottieri e venerdì ci sarà l'addio. Giorgio era nato nel 1921 ed era quindi alle soglie del 99esimo anno della sua lunga e di certo non monotona vita. Un rosario sarà recitato in Duomo domani alle 17.30, mentre il funerale e la cerimonia religiosa si terrà nella mattinata di venerdì 27, sempre in Duomo, in un orario che però è ancora da fissare. Dicevamo della protesta che non si ferma nemmeno di fronte alla pioggia, quella dei residenti di Santa Veneranda a Pesaro. Il Sindaco è accusato in qualche modo di non essere presente, anzi mandano a dirgli sei sempre in televisione ma non vieni mai qui a Santa Veneranda. La protesta dei residenti che chiedono la circonvallazione e che ora minacciano anche di chiamare un programma di Italia 1, ovvero le Iene. Mentre sfilava il corteo all'imbocco dell'arco incidente c'è stato un incidente tra due auto e questo per loro è la dimostrazione per i residenti che dicono loro, abbiamo ragione. Ora la questione di Povia invece sul resto del carlino, la pagina di Fano, la questione di Povia, il cantante dei bambini Fano, che è la canzone sicuramente che molti ricorderanno, la questione di Povia al carnevale di Fano. Poi è stato, sapete, è stato dagli organizzatori invitato ad essere uno dei tre artisti presenti alle domeniche in una delle domeniche di carnevale. E quando si è appresa di questa notizia il Partito Democratico fanese e in comune, la lista civica in comune, si sono subito scagliati contro la carnevalesca per questo invito. Perché? Perché pare che abbia detto cose sull'immigrazione, sui vaccini, sull'omosessualità che non sono state gradite dal Partito Democratico. Poi c'è anche, ci sono storie legate a delle teorie, tipo le sciemi chimiche, l'origine del terremoto. Insomma, Povia ha un po' parlato di tutto, immagino, negli ultimi anni, ma soprattutto tanto tempo fa, 15 anni fa. Lui dice, conosco tante persone gay, conosco tante persone, e so di aver detto delle cose in un'intervista a 15 anni, delle quali si è pentito, dice, e che ha scritto una canzone addirittura in migrazia, che è di sinistra. Giustificazioni doverose dopo l'atto d'accusa feroce del Partito Democratico, che si era appunto detto contrario a questa presenza al Carnevale di Fano di questo cantante. Ma dall'altra parte ci sono quelli del centrodestra che dicono e mandano a dire il Partito Democratico, perché intanto la città si divide tra innocentisti e colpevolisti, che insomma, per quanto riguarda questa polemica, dice, ma il PD decide chi viene e chi non può venire a cantare a Fano, ma siamo in Unione Sovietica, pensate a risolvere i problemi dei marchigiani, dice Lodovico Doglioni della Lega, mentre Luca Serfilippi, sempre della Lega, ma di Fano, esprime solidarietà a tutta la carnevalesca. Poi Sergio Carboni, invece, che ha festeggiato con un brindisi i suoi 80 anni, le sue 80 primavere, al compleanno arriva anche il sindaco Massimo Seri, con un pensiero, con un regalino, c'era Stefano Seretti che guida il commissariato cittadino, Pasquale Bove dei Carabinieri, poi c'era Sergio Schiaroli, c'era insomma tanta gente ovviamente, tra l'altro c'era, scrive il Carlino, anche Fano TV, soprattutto la famiglia con Daniele e Filippo, che vedete in questa immagine, insomma, è un momento, una famiglia molto unita, famiglia molto bella e soprattutto Sergio Carboni è una persona che, insomma, ha dato tanto a questa città e ora proseguono sulla scia i figli. C'è la letterina di Natale, invece, del sindaco Massimo Seri, carissimi fanesi, andate a piedi, dice, dopo le recenti polemiche sui parcheggi a pagamento e progetti di pedonalizzazione, ecco l'invito del primo cittadino per questo Natale, ovvero quello di invita i fanesi a scoprire, camminando ai piedi, i quartieri, il centro storico che sono ricchi di iniziative in questi giorni. Seri si rivolge ai suoi concittadini, in particolare alle bambine e ai bambini della città, con una lettera diffusa attraverso i social per chiedere come regalo di Natale, di ridurre l'uso delle automobili e di camminare perché favorisce la socializzazione. Parcheggiate lontano, dice, e andate a scoprire la città. C'è la cronaca e, come dicevamo, anche nei giorni scorsi non manca giorno che i quotidiani scrivono di arresti, di spacciatori, di gente che si droga, insomma, questa cocaina che continua a fiumi, a scorrere sotto il naso e non solo. Insomma, la cocaina lavorata in cucina, ci sono due notizie e due azioni dei carabinieri di due stazioni distinte, questa è quella di Marotta, i carabinieri della stazione di Marotta che hanno tratto in arresto in via Sicilia un operaio 41enne incensurato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Hanno fatto irruzione a casa dopo pazienti accertamenti e sono stati trovati 35 grammi di sostanza. E questa è la prima operazione. Poi ce n'è un'altra, un blitz che è scattato all'alba dove è stato bloccato un ucraino di 39 anni, tra l'altro neanche in regola con il permesso di soggiorno, che quando ha capito che c'erano i carabinieri alla porta è andato in giardino, ha preso la droga e ha tentato di buttarla nel water, però non ci è riuscito perché insomma i carabinieri ormai hanno un'esperienza tale che sono riusciti velocemente a bloccare il gesto e a recuperare la sostanza stupefacente. Da Pesaro, da Marotta, da Mondolfo andiamo a Senigallia, più o meno siamo lì, droga, blitz sull'autobus per la discoteca, qui sono i ragazzi quelli che invece vanno a sballarsi e per andare solitamente in discoteca ci si va per ballare, invece qua ci si va già fatti di cocaina se non è l'alcol o quant'altro. Insomma, blitz sui bus per la droga, Senigallia la polizia ha trovato Ascici e marijuana abbandonata sui mezzi, così come in stazione. Capodanno blindato invece a numero chiuso, sempre a Senigallia, il comune ha predisposto l'ordinanza, l'ingresso in piazza del Duca sarà effettuato con il contapersone, tutto questo lo ricordiamo dopo i fatti di Torino di qualche anno fa e questi sono i risultati. Volano giù calcinacci invece, torniamo a Pesaro da un cornicione di via Branca, calcinacci ieri intorno alle 15, pezzi di intonoco che sono volati giù all'altezza di un negozio di abbigliamento e per puro caso non hanno colpito dei passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno verificato se dal cornicione del palazzo potesse accadere qualche altro cornicione e quindi è stato messo in sicurezza. Lavori pubblici oggi alla Commissione, relazione di Ricci sulle infrastrutture, nell'incontro fare il punto sulle opere accessorie e sulla gognata bretella e dunque si parlerà di questa bretella che tanto vogliono. Tasse non pagate, in arrivo le ingiunzioni, il Comune batte cassa a più di mille pesaresi, il recupero previsto di oltre 3 milioni tra vecchia Tare, Simu e Tari, possibile anche però la reatteizzazione per certi importi. Pista di pattinaggio, è troppo invasiva per la sovrintendenza, attendiamo l'incontro con i funzionari, i responsabili di pesano nel cuore, di cetteloni plastificati sono da rimuovere ma si è creato un caso esagerato. Ma soprattutto, insomma, voglio dire, questi sopralluoghi, queste cose andrebbero dette prima dell'inizio della manifestazione, non durante, a due giorni dal Natale. Cioè, anche qui siamo in Italia e dobbiamo accontentarci. Funziona così. Dopo il blitz della sovrintendenza si valutano le soluzioni possibili in pochi giorni. Allora, adesso andiamo invece sulla pagina di Urbino perché c'è la strada di Bocca-Trabaria che crolla con le frane che in questi giorni di pioggia, insomma, sta dando dei problemi negli automobilisti. Transito interrotto ieri mattina, prima dell'intervento dell'ANAS, la sindaca di Burcupaci dice fate presto con i lavori, la circolazione è a senso unico alternato. Romina Pierantoni, la sindaca, ribadisce l'importanza della terra per le zone interne, il fiume intanto esonda. Da tutto il Montefeltro, invece, per l'addio al veterinario, a espressioni di stima e di dolore per Giorgio Pasquini, morto alle tra di 93 anni. Mentre dalla pagina di Fano, si parla nella pagina di Fano del Corriere Teatro Romano, oggi l'acquisto dell'ex Filanda, il Comune sblocca così un impasse di 18 anni, decisiva la rinuncia alla permuta dell'area, usati 794 mila euro dell'avanzo di amministrazione. Dunque, questo pomeriggio, con atto formale della firma del Rogito nello studio del notaio Colangeli, si concluderà la nosa vicenda dell'acquisto dell'area dell'ex Teatro Romano. La decisione è stata deliberata all'unanimità nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. In questo caso, probabilmente, l'assenza delle forze politiche nei banchi dell'opposizione non ha influito più di tanto, in quanto essi avevano già espresso comunque il loro consenso. La delibera, dunque, è stata approvata senza alcuna illustrazione di intervento, essendo state risolte tutte le problematiche che da 18 anni a questa parte hanno impedito la conclusione della vicenda. Innanzitutto, l'accordo con la proprietà di quell'area, ovvero la società, la Filanda, SRL. Mentre Marchegiani boccia l'affidamento dei beni a Centro Studi Vitruviani e a Confcommercio. Questo capita non di rado, che ha più lavorato per raggiungere un obiettivo, si trovi nelle condizioni di lasciare ad altri la soddisfazione del traguardo finale. È il caso dell'ex vice sindaco Marchegiani, cui si deve lo sblocco delle trattative per l'acquisizione dell'area del Teatro Romano. Un punto in più, tra l'altro, per arricchire il progetto della candidatura della città di Fano, a capitale italiana della cultura. E questa invece è la pagina sempre di Fano del Corriere, dove si parla delle polveri sottili, a rischio i dati dell'ARPAM, servono forza e coraggio per cambiare. Il presidente di Forbici chiede servizi e infrastrutture per la mobilità sostenibile, chiusure alle auto che sono però tutte da sperimentare. Diba muore a 104 anni, a Fossombrone. All'età di 104 anni è morta la nonnina di Fossombrone, Fermina Tomassini, meglio conosciuta con il soprannome di Diba, una delle donne più longeva delle Marche. Se ne è andato un pezzo di storia della città metaurense. Fermina, che per tanti anni aveva aiutato il marito nella rinomata Sartoria Vernarecci, e anche in questo caso il riferimento non può che essere legato ad anni lontani, è sempre stata una persona positiva, racconta la nuora Paola Badei, anche quando incontrava degli ostacoli. Insomma, a 104 anni se ne è andata, il funerale è in programma oggi pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa di Sant'Agostino di Fossombrone, per chi vorrà appunto salutarla per l'ultima volta. Poi a Senigallia, 5 Stelle, parola agli attivisti. Sapete, il prossimo anno si vota per eleggere il successore di Maurizio Mangialardi, il candidato sindaco dovrà essere scelto online. Niente alleanza con il centro-sinistra, nominativo selezionato attraverso la piattaforma Rousseau. E questa fotografia invece, guardate qua, è una fotografia scattata lungo la spiaggia di Velluto, è una piccola targa, e guardate se riuscite a leggere da casa che cosa c'è scritto in questa targa. San Marco, poi non si riesce a capire, Arsenale, Giardini, Sant'Elena, Insomma, questa targa proviene niente meno che da Venezia. Era probabilmente in uno di quei taxi, quei bus che viaggiano sull'acqua di Venezia. Sapete, c'è stata l'acqua alta, anche degli incidenti, questa targa si è staccata ed è finita sulla riva, sulla spiaggia di Velluto e di Serigaglia. Un viaggio affascinante ed eccola qua, immortalata in questa immagine. Poi, bustine di droga sulle navette per la discoteca, anche qui dose di Ascici e Marjuan, abbandonate dai ragazzi alla riva dei poliziotti. E infine, la prima pagina, perché siamo in chiusura, sono le 7.23, la prima pagina di Pesaro, muore dopo la cena con la squadra, Federico Cerreti, 33 anni del Gallo Football, trovato in auto sul ciglio della strada, disposta per lui l'autopsia. Questa è la prima pagina del resto del carriero di Pesaro, questa è invece la prima pagina del Corriere Adriatico, sempre l'edizione cittadina. La rassegna finisce qui, grazie per averci seguito, buona giornata a tutti, ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. arrivederci.